Nikita Pelizzon trionfa al GF VIP, la frecciata agli altri durante la festa, ha vinto la verità cosa ha detto. Nikita Pelizzon ha vinto il grande fratello VIP. Dopo un'edizione molto discussa. Fatta spesso di offese, atti di prevaricazione e di bullismo, due delle protagoniste di queste scene poco edificanti si sono trovate faccia a faccia nella finale delle reality di Canale 5. Caterina Balivo e la frecciatina alla Rai, bisognerebbe ricordarsi chi ha costruito prima. Antonella Fiordelisi, dopo il GF VIP farà un altro reality. L'ex Chiofalo, non sa cosa fare. Nikita, uno dei volti più attaccati dagli altri concorrenti del grande fratello nella casa. Ha trionfato davanti a Oriana Marzoli, sua acciarima rivale per tutti questi mesi. Tra le due ci sono state spesso discussioni, nella creazione di due fazioni all'interno della casa Nikita è stata spesso presa di mira. Ma alla fine il pubblico ha voluto premiarla votandola come vincitrice. Dopo lo show Nikita ha festeggiato con la sua famiglia, anche se i genitori si sono sempre mostrati resti alla passione della giovane per il mondo dello spettacolo. Dejanira Marzano mostra i festeggiamenti privati della Giaffina, che con i familiari e gli amici stappa una bottiglia di spumante con tanto di discorso. Il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma questa volta ha vinto la verità. Grafferul din Toto, Toto MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Io vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe. Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.